Torna per il secondo anno consecutivo lo street event Baccalare dal 19 al 27 maggio sul lungomare Caracciolo è una gastronomia, cultura, spettacoli, tavole rotonde ma anche stand, cucine, vista mare, elaborazioni inedite per nove giorni visitatori potranno contare sulla presenza di chef stellati e di un fitto programma di eventi musicali e culturali con la partnership instaurata con il Salone del Libro, stamattina la presentazione a Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore all'attività produttiva Enrico Panini Baccalare è una festa e un evento eco-compatibile nel senso che le scelte non solo sui prodotti ma su tutto ciò che riguarda la festa dalle posate o d'altro tiene conto di una cura particolarmente attenta agli elementi della compatibilità e dell'ambiente Alimento ricco di proteine ad elevato valore nutrizionale con pochissime calorie e per questo inserito a pieno titolo nella dieta mediterranea il baccalà torna di nuovo ad essere protagonista lasciandosi riscoprire A parlarci dell'iniziativa gli organizzatori Enzo Varriale e Nicola Cavallo Le novità di quest'anno ne sono veramente tante e abbiamo fatto sulla declinazione baccalare e tutta una serie di cose per esempio il baccalare sarà baccalare sociale, baccalare moda, baccalare kids, baccalare area lounge quindi ci sarà anche un baccalare aperi baccalà e ci sarà una serie, ci sarà una sfilata di moto come ho detto prima e ci saranno molti interventi sia sul palco che nell'area privé anche sulla cultura perché baccalare sarà anche cultura, abbiamo fatto anche un gemellaggio con Napoli Città del Libro che aprirà il giovedì 24 maggio e all'interno del nostro evento facciamo la prima volta un esperimento di fare sinergia con altri eventi in questa città Quest'anno abbiamo voluto ampliare l'evento a nove giorni per dare la possibilità a chi è amante di questo prodotto, di questa materia prima che si sta riscoprendo il baccalà piatto povero oggi rivisitato in chiave gourmet sta riscoprendo un grande appeal sia di chi già lo conosceva ma soprattutto nelle nuove generazioni